messora montanari e i loro affari ormai ci ho fatto il callo a tutti quelli che mi chiedono di metterci la faccia e che pensano che sarei pagato da chissà quali poteri forti per screditare chi diffonde verità scomode come utente youtube oltre che autore anche io seguo dei canali e la cosa interessante è che qualcuno di quei geni che pensa sia pagato da chissà chi si presenta a volte ad attaccarmi anche sotto ai miei commenti ad altri video ad esempio seguo link for universe di alan fartade perché lo ritengo molto appassionato in quello che fa e mi piace il suo modo di esporre che spesso non si prende troppo sul serio e sotto a un mio commento ad un suo recente video sull'atterraggio di perseverance su marte qualcuno si è fatto vivo dicendomi che mi farei pagare con due spiccioli per le mie diffamazioni poveri noi sarebbe molto strano che i poteri forti si servissero di un piccolo canale di poco più di 1000 iscritti per abbattere dei paladini della verità pronti ad immolarsi per il bene comune non vi pare a queste persone non passa minimamente per la testa che ciò che facciamo io e altri come me sia solo dovuto ad un modo diverso di vivere la realtà io non penserei mai che tutti quelli che scrivono questi commenti siano pagati da qualcuno anzi spesso sono loro che finanziano i contrattari sia direttamente che indirettamente purtroppo questi individui spesso fanno strane correlazioni come se essere contro i cazzari e i truffatori corrispondesse ad essere a favore di tutto ciò a cui loro non credono per spiegarmi meglio io non penso che il virus non esista e che la pandemia sia stata dichiarata a caso o per chissà quale disegno malvagio di poteri che ci vogliono sottomessi o sterminati ma questo non vuol dire automaticamente che tutte le decisioni prese dai governi o dagli enti preposti alla salute siano indiscutibili e non criticabili e che non esistano lobbies che stanno anche speculando sulla pandemia per fare soldi non voglio parlare di politica perciò quello che sto per dire riguarda tutti i governi che nel mondo hanno avuto a che fare purtroppo con lo stesso problema del SARS-CoV-2 ogni stato ha pensato alle proprie strategie che hanno avuto successo o meno e che spesso hanno favorito alcune categorie rispetto ad altre alle quali hanno causato veri problemi economici e questo è un dato di fatto ma il problema è per tutti trovare un precario equilibrio tra contenimento del virus e mantenimento dell'economia in alcuni stati ha prevalso persino il negazionismo dato che questo si trova ad ogni livello della società e solo il fatto che ci siano nel mondo governi e presidenti negazionisti dovrebbe far capire che non esiste nessun disegno perfetto e comune di eliti immaginarie il mondo è nel caos altro che piano degli illuminati del nuovo ordine mondiale si procede a tentoni e con strategie diverse anche i vaccini che secondo i più radicali comportari dovrebbero servire a sterminarci purtroppo non bastano e le case produttrici non riescono a far conto alle richieste se avessero pianificato tutto da tempo secondo voi questo sarebbe possibile voglio fare una domanda a chi sposa solo l'informazione dei canali che si considerano non ufficiali vi siete mai chiesti quanto di ciò in cui credete sia realmente frutto di un vostro ragionamento e quanto invece vi sia stato indotto dai vostri guru voi che date del covidiota al prossimo tra l'altro invertendo il reale significato con il quale questo termine è nato voi per cui la massa è indottrinata dalla tv e dalla sempre presente barbara d'urso avete mai pensato a quanto siate indottrinati voi in un mio video di qualche mese fa pure io avevo criticato burioni e la sua incauta affermazione del febbraio dello scorso anno secondo la quale il virus in italia non sarebbe arrivato ma questo non elimina le prove scientifiche il problema di oggi è che l'informazione è fatta spesso coi piedi e segue le logiche economiche del click e dell'audience a tutti i costi non pensando alle conseguenze e così si hanno informazioni tra virgolette discordanti che però sono dovute ad opinioni non a prove scientifiche la medicina non è nata con burioni come l'astronomia non è nata con la nasa chiunque parlando di questo virus può aver creato delle incomprensioni che spesso sono state usate da negazionisti ma questo non vuol dire che il metodo scientifico ne viene in qualche modo scalfito voi che pensate che la scienza sia indottrinamento dovreste capire che tutto ciò che avete oggi come lo strumento che state usando per vedere questo video sono il frutto di centinaia di anni di perfezionamenti di teorie che prevedono modelli che si adattano alla realtà e la descrivono e che se quello che usate funziona è perché questi modelli sono stati provati essere molto validi per descrivere e prevedere i fenomeni fisici alla base di tutto ciò che usate compresi i medicinali e vaccini nessuno ha calato dall'alto la scienza o la medicina sono gli uomini che la rendono possibile tutti siamo pedine di una società così complessa che non si può spiegare in modo semplicistico come una contrapposizione fumettistica tra buoni e cattivi il fatto poi che si siano scoperti personaggi che speculano sulla pandemia con la vendita delle mascherine o dei vaccini di nuovo non pregiudica la scienza e non riesco a capire come a volte queste azioni delinquenziali vengano riprese dai complottisti per difendere le loro posizioni negazioniste adesso passo a ciò che ho scritto nel titolo perché il preambolo è durato anche troppo parliamo di claudio messora alias bio blu di recente youtube ha bloccato gli introiti da abbonamenti pubblicità al suo canale ovviamente lui ha subito incolpato di questo i fantomatici poteri forti che vorrebbero controllare tutto ma è davvero così devo ammettere che all'inizio messora mi piaceva e lo consideravo una persona intelligente che poneva anche dubbi legittimi sull'economia e la gestione di questa in europa sto parlando però di più di 15 anni fa quando spesso veniva ospitato anche nel programma di paragone la gabbia una volta parlo anche del piano talergi ma allora non ne sapevo niente e quando scoprì delle bufale dietro a questo piano pensai che avesse preso solo un abbaglio ma la mia fiducia cominciò a vacillare adesso dopo tutti questi anni la mia opinione su di lui è molto cambiata tra il 2013 e il 2014 messora è stato a capo della comunicazione del movimento 5 stelle fino a quando non venne cacciato da casaleggio terminata questa sua avventura molto probabilmente ha investito i soldi guadagnati con quella sua posizione per creare quello che fa oggi il 23 febbraio ha scritto lungo sfogo sul suo blog riguardo a quanto accaduto al suo canale di cui leggerò ed analizzerò alcune parti a un certo punto messora dice che dio blu è cresciuta troppo nell'ultimo anno e che per questo farebbe paura e afferma che da youtube ricevevano circa 20.000 euro al mese un quarto di quanto hanno bisogno per mandare avanti tutta la baracca questo non fatico a crederlo dato che ha addirittura aperto un canale televisivo trasmesso sul digitale terrestre e che si vede in alcune regioni ed ha assunto uno staff non so di quante persone posso capire quindi che ci sia un problema reale per i suoi dipendenti tra i quali magari ci sono tecnici che niente hanno a che vedere con ciò che i suoi canali diffondono al di là però della considerazione umana per i futuri problemi economici di queste persone bisogna dire che combattere contro la disinformazione secondo me è una priorità ultimamente seguo poco di ciò che messo ora mette in rete e quando ho visto qualche video mi sono reso conto che non tutto ciò che viene pubblicato ha lo stesso valore infatti anche nella comunicazione che gli ha inviato youtube c'è scritto che non tutto ciò che viene postato non è conforme ma buona parte mi sono imbattuto per esempio in alcune interviste che parlano di economia opinioni di vario tipo e non sempre ci si trova davanti a disinformazione però purtroppo il canale ne è pieno a un certo punto messa ora scrive da quando bio blu esiste ho sviluppato quasi 200 milioni di visualizzazioni video solo su youtube bio blu è una forza della natura la forza del diritto di farsi le domande giuste la forza del dovere di non accettare qualsiasi cosa a scatola chiusa e più in basso cita ancora le cifre del suo canale dicendo che hanno più di 500.000 iscritti ecco perché siamo dannosi perché a fronte di 4000 ore di visualizzazione pubblica richieste da youtube per essere monetizzabili noi ne sviluppiamo periodicamente quasi 11 milioni siamo dannosi perché siamo troppo bravi per loro secondo me sora loro sarebbero dannosi perché diffondono troppa informazione sono proprio qui le contraddizioni in ciò che dice un tale traffico di visualizzazioni non è dannoso per youtube anzi è un guadagno un canale come il suo di solito non è certo un pericolo ma una manna il fatto che abbia subito il blocco quindi è dovuto alle migliaia di segnalazioni che youtube ha avuto nel corso dell'ultimo anno al discapito dei loro stessi interessi economici secondo me sora ci sarebbero poteri così forti da indurre youtube a bloccare un canale contro il loro stesso interesse economico molto probabilmente esiste questo potere forte ed è quello di altri cittadini che si sono stufati di sentire pericolose bagianate spacciate per opinioni sul fatto di non accettare qualsiasi cosa a scatola chiusa mi spiace per me sora ma è quello che fanno loro messora sa benissimo che se pubblicasse solo interviste a personaggi sconosciuti che parlano di economia o politica non potrebbero aggiungere le visualizzazioni necessarie per mandare avanti tutto perciò cerca in tutti i modi di fare ciccia con personaggi discutibili accettando a scatola chiusa e senza alcun controllo quello che dicono in nome del denaro che serve a tutto i primi a non operare alcun controllo su ciò che viene diffuso sono proprio loro e adesso questo lo stanno pagando passiamo a montanari dopo aver terminato di raccogliere i fondi per il suo nuovo microscopio ha cercato di ottenerne ancora con la giustificazione che comunque le sue ricerche hanno dei costi probabilmente però le entrate sono diminuite parecchio anche perché l'effetto emergenza che ha usato negli scorsi mesi adesso non fa più presa perciò ha differenziato i suoi affari in descrizione metto il link ad un recente articolo su questo di 262.1 che vi invito a leggere adesso sta promuovendo anche corsi online a pagamento della cosiddetta free health academy da lui fondata per diffondere le sue mirabilanti scoperte senza pericolo di censura inoltre sta spingendo molto su alcuni prodotti che lui stesso afferma avrebbe personalmente messo a punto insieme con un gruppo di esperti nutrizionisti secondo un mio segnalatore questi prodotti sarebbero in realtà della società solime srl che si trova a caviago in provincia di reggio emilia la solime è una società che è nata nel 1990 e che è anche un'azienda agricola in cui coltiva le piante che usa per i suoi preparati secondo la segnalazione montanari venderebbe a prezzo maggiorato e con un packaging diverso prodotti della solime su questo in realtà non ho trovato riscontro però la verità non è molto lontana sulle confezioni degli integratori venduti da montanari c'è scritta la società che li distribuisce e lo stabilimento dove fisicamente questi vengono prodotti lo stabilimento si trova a caviago in provincia di reggio emilia e guarda caso è proprio la sede della solime quindi montanari fa produrre i suoi integratori proprio da questa ditta a quanto pare il problema però sorge se analizziamo attentamente le confezioni delle capsule che vende la società mggr sciences srl è nata il 28 settembre 2020 quindi molto recentemente ma se controlliamo il suo codice ateco risulta essere una ditta che si occupa di ideazione di campagne pubblicitarie questa società è anche quella che appare nel sito della free health academy ed è alla base di questa associazione se avete guardato il mio video su nonna maura avrete già visto una situazione del genere dove in realtà tutto sembra ruotare attorno alla pubblicità ciò che mi chiedo e che tra non molto si chiederà anche qualche organo preposto è se sia possibile per una società pubblicitaria vendere integratori e metterlo pure sulla scatola quindi tra l'altro anche la free health academy dovrebbe essere una trovata pubblicitaria della mggr per ora è tutto al prossimo paradosso e Grazie a tutti